Investito da una moto vicino a casa sua mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è morto a Genova il presidente di Assu Musica, Vincenzo Spera. Aveva 70 anni, noto organizzatore di eventi musicali, Spera aveva portato in concerto a Genova i più grandi big della musica italiana internazionale, da David Bowie ai Clash, da Guccini e De Gregori a Battiato, da Springsteen a Tina Turner, da Miles Davis a Joe Cocker. Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta hanno espresso grande cordoglio e si sono stretti attorno alla famiglia.